Lania, perché cambio sempre sfondo? C'è ragione quello mio, però faccio i video quando posso e dove posso mi raccomando fai il bravo eh fai silenzio Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale oggi è un video un po' diverso dal solito niente tutorial, niente di niente ma oggi farò una challenge mi è piaciuta tantissimo e l'ho vista soprattutto da Nania Tempest e da Isshima che segue con tanto affetto e sempre praticamente ed è una challenge, la famosa challenge che ormai hanno fatto quasi tutti che è quella se canti o balli perdi da quello che ho visto non è per nulla facile ho deciso di prendere delle canzoni di un livello abbastanza difficile quindi bando le ciance partiamo subito quindi qua sopra c'è scritto come potete vedere, non lo potete vedere quindi se canti perdi se balli perdi se canti nella mente perdi giusto? cercherò di essere il più onesta possibile questo è un livello estremo io non ho sentito ancora le canzoni quindi vediamo un po' li devo concentrare pronti? ah, sentire delle urla ogni tanto non sono io ma è un ragazzo mio con il suo potere di là che giocano alla playstation quindi ovviamente sto vedendo anche i video non sto cantando nella mente ve lo giuro che perché non è che mi piace tanto questa canzone domani le vedete Questo tipo di musica l'adoro Devo stare ferma Non è male che non conosco le parole No Ma se si muove ne capire il piano stesso Se si muove ne capire il tempo di musica No No Non è male che non si muove ne capire Non è male che non si muove ne capire Non è male che non si muove ne capire Non è male che non si muove ne capire Non è male che non si muove ne capire Non è male che non si muove ne capire Vuoi vedere il video? E' ancora peggio Nooo Ok, già penso una Ho perso E' una più bella E' la mia suoneria Lasci la panza male Adoro questa pezzola Ok, due pezze No E ce la sta facendo Dammi la mano No Questa la dola Va, no Beh Tre pezze Ok, due 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 pezze Prima Un dolap Sono C'è la punta male Ok, due pezze ma perché? negativi ascolti, ascolti non ce la faccio su queste gazzoni adoro questa gazzoni questa è una riuscita questa è una riuscita io sto guardando questa è una riuscita questa è una riuscita è una riuscita è una riuscita è una riuscita questa è una riuscita 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 mi sta guardando anche la gantana ma non è tanto perché ci la fa suba è una riuscita è una riuscita è una riuscita è una riuscita ma perché? sì aiuto aiutami è una riuscita 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 e ho parlato è una riuscita Mumia è una riuscita Inizia l'intero 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 Iltero Alla prossima Non c'è niente Vedete queste canzoni che io parlo, non c'è niente da fare, io amo queste canzoni, tipo latinoamericane Mi mettono ogni dj e mi è finita Ora qua posso ancora resistere Sei resiste, mi piace per andare su Che caro mi sembra Sì Allora Chi? Zara Luxon Non ci conosco nella mia C'erano le mie facce di qua tutte Bellissima questa canzone C'erano le parole Oh my god, conosco le parole C'erano 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 le parole Un tempo seguito C'eranoeno le parole C'erano le parole è finito meno male che è finito non ce la voglio fare più quindi niente ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto io e mio nuovo amico qui che ho ancora non so come si chiama ma indietro il nome vi salutiamo, saluta con la zampona, molto bene se questo video vi è piaciuto e volete altri video di questo genere, già legge tag, cose così fatelo sapere qui giù nei commenti mi raccomando iscrivetevi c'è un pulsantino magico da qualche parte qui o lì rosso mi raccomando seguitemi ancora noi ci vediamo nel prossimo video vi mando un grosso bacio anche lui e mi raccomando fate i bravi ciao ciao ciao